Noi contiamo su tutta la rosa, sono ragazzi che lavorano benissimo in settimana, anche se dobbiamo migliorare ancora qualcosa sul gol siamo stati un po' disattenti, dobbiamo migliorare anche questo, però Luca come tutti gli altri lavorano benissimo, si impegnano tantissimo e quindi è giusto che vengano premiati anche in questo modo, anche perché per il punto di penalizzazione erano tre punti che ci volevano e erano veramente importanti.